valore oro di alleanza l'investimento che valorizza ogni istante cerchi una soluzione per far crescere i tuoi risparmi valore oro ti offre un rendimento atteso del 3 per cento nel primo anno grazie all'investimento nella storica gestione separata fondo euro san giorgio di alleanza valore oro ti dà l'opportunità di conferire solidità al tuo capitale in un periodo in cui i mercati finanziari sono caratterizzati da volatilità e alta inflazione e con valore oro di alleanza puoi attivare una copertura assicurativa aggiuntiva scegli tra protezione light e full e in caso di lesioni o decesso da infortunio l'assicurato o i beneficiari riceveranno un capitale assicurato pari fino al doppio del premio iniziale versato entro i limiti massimi previsti valore oro di alleanza la nuova soluzione di alleanza che dà solidità al tuo capitale messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggere il sat informativo disponibile nelle agenzie alleanza e su alleanza.it valore oro prevede un orizzonte temporale consigliato di cinque anni e un profilo di rischio basso connesso al rendimento il prodotto non prevede una garanzia di rendimento minimo è prevista l'applicazione di costi in caso di disinvestimento entro il quarto anno